Il giorno in cui si discute la sentenza al Tarre dovremmo stare in silenzio rispettoso degli elettori per quanto riguarda il ballottaggio ai senni, eppure si continua a gettare fango colpendo delle persone che magari non lo meritano, ma sicuramente colpendo il Molise che non ha proprio nessuna colpa, nessuna responsabilità, quindi ci vorrebbe anche un po' più di cervello che ogni tanto va in vacanza.